Gentili telespettatori, buona giornata. Donna Rumma, 21enne, più o meno, 21-22 anni, è l'uomo da 12 miliardi di euro. Vi ricordate che negli anni Ottanta c'era Steve Austin, l'uomo da 6 milioni di dollari? Vi ricordate l'uomo bionico, no? Con l'orecchio. Ecco, una volta c'era Steve Austin, l'uomo da 6 milioni di dollari, adesso con l'inflazione galoppante c'è Donna Rumma, che vale 12 miliardi di euro, perché in dollari ormai si parla più in euro. Ma perché questo ultimo tuffo, quell'ultima parata col manone gigante di Donna Rumma, vale assolutamente oro? C'è una spiegazione economica che non è una roba farlocca, ma è una roba assolutamente reale. Sto cominciando anch'io a parlare come qualcuno, una roba, una roba, un po' come Bersani, un po' come Del Debbio, quella roba lì, quella roba lì. Ecco, forse è meglio che mi tolgo questo modo di parlare un po', eh? Roba. Beh, bisogna utilizzare altri termini. L'ultima parata di Gianluigi, di Gigio Donna Rumma, potrebbe valere la bellezza di 12 miliardi di euro. Questa è la crescita in più della ricchezza nazionale. Cioè il PIL italiano, dicono gli esperti di Calcionomics, concordano sul fatto che vincere i mondiali o anche i campionati europei di calcio costituisce sempre un volano straordinario per l'economia del paese vincitore. Il cui prodotto interno lordo, cioè la produzione di ricchezza annuale del paese vincitore, aumenta in media dello 0,7% in più di quello che si prevedeva. Quindi non è una previsione farlocca, ma nella storia del calcio mondiale degli ultimi 70 anni, gli esperti hanno visto che chi vince i mondiali e chi vince gli europei ha di media una crescita del PIL, della produzione di ricchezza nazionale, dello 0,7%. Pertanto si parla di un 12 miliardi di euro che potrebbe portare questa vincita. L'unico cauto è il capo economista di Confcommercio, Mariano Bella, che dice In questa fase molto particolare della nostra economia, in cui già ci attendiamo un rimbalzo forte del PIL, è difficile dire quale giovamento possa portare una vittoria del genere. E' chiaro che poi tutto fa brodo, ma anche i riferimenti al passato sono forzati. Negli anni Ottanta andava bene, perché anche a colpi di debito pubblico crescevamo, il 2006 invece era l'anno prima della crisi. Mentre Simona Caricasulo, docente di economia aziendale dello sport, l'Italia dopo il Covid aveva bisogno di questa vittoria, perché significa ripresa, raccontarla in termini economici però è anche un grandissimo messaggio di speranza, che è quella di cui tutti quanti hanno bisogno. Tutti avevano bisogno, in termini emotivi, di questa vittoria. L'impatto sul PIL è difficile fare degli stimi in questo momento, però è chiaro che gli europei rappresentano per il nostro paese una vetrina straordinaria sul mondo, che rafforza sicuramente la brand identity dell'Italia. Cioè il marchio Italia nel mondo, già assolutamente di prestigio assoluto, tra Ferrari, Lamborghini, motoscafi di lusso, navi, la moda, i vestiti, i gioielli, le belle arti, il calcio appunto, il cibo italiano. Già l'Italia è leggenda, anche se gli italiani si denigrano sempre da soli. Noi non siamo come Detroit, no? Eh, no, Bologna non è San Francisco, no? È meglio, Bologna è meglio di San Francisco. Eh, ma Milano non è come Detroit. Milano è meglio di Detroit. Ecco, noi siamo Ermeio, ma gli italiani ancora fanno fatica a capirlo, perché il paese è uscito dalla fine del secondo conflitto mondiale disgiunto, disgregato, no? Non mettere la bandiera dell'Italia fuori al balcone, che vergogna! Cosa penseranno i vicini? Eh, cosa penseranno i vicini? Io quando vivevo a Dormelletto, avevo fuori, piantato nel giardino un bandierone italiano, e la gente, i vicini dicono, ma guarda quel buffone lì. Sì, io sono un buffone. Pertanto vi dico, la vittoria dell'Italia ai mondiali rafforza il marchio Italia, il brand identity. E questo sicuramente andrà a dare un'ulteriore sferzata positiva a tutto il Made in Italy. E poi ci sarà un ritorno in termini di turismo, di valorizzazione dei territori e vantaggi per tutti gli sponsor della nostra nazionale, svelando nel dettaglio cosa potrebbe succedere ai nostri conti. L'anno successivo, all'ultima grande vittoria degli azzurri ai mondiali del 2006 in Germania, segnala ad esempio Coldiretti l'economia nazionale cresciuta in modo sostenuto con un aumento record del 4,1% del prodotto interno lordo, mentre il numero di disoccupati è diminuito del 10% e di un altro 10% sono poi aumentate le vendite nazionali all'estero, spinte dal successo di Immagine dell'Italia, che ha avuto un effetto traino anche sui prodotti Made in Italy, e sul turismo con un aumento di 2,36 milioni di stranieri in più che sono venuti in Italia in vacanza nell'anno successivo alla memorabile vittoria. Sono questi i dati che fanno ben sperare. Tra il 1986 e il 2014 tutte le otto nazioni che hanno vinto hanno sempre migliorato la loro crescita. Difficile però per l'Italia quest'anno fare più del 5% già preventivato, a meno di un miracolo di Mancini, conclude il quotidiano La Stampa. Ma attenzione, ci stiamo avvicinando ai mondiali, al campionato del mondo del 2022. E una squadra di questo tipo, così affiatata, una squadra di amici, è un vantaggio sportivo immenso sugli altri. Pertanto, e poi scusate se è poco, avere Donna Rumma in porta, questo leggendario portiere di un metro e novantasette, è una sicurezza. Ma l'Italia ha sempre avuto portieri leggendari. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e ricordatevi che nel film di Fantozzi aveva segnato anche Zoff di testa su calcio d'angolo. Magari anche Donna Rumma nel 2022 segnerà di testa su calcio d'angolo il 21-0 in quel famoso Italia-Inghilterra che finalmente si è materializzato a Wembley. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata. Grazie.